Abbiamo ritrovato altri reperti sia biologici che di materiale e questo ci dà delle buone speranze per poter chiudere il cerchio intorno alle persone che mancano all'appello. Nel sesto giorno di ricerche emergono ancora altri resti sul luogo della tragedia, battuta nuovamente da 14 soccoritori e due cani. Tecnicamente si è trattato di una ricognizione vista udito concentrata sulla parte bassa della colata di ghiaccio, compresa una zona già battuta nel corso della prima mattinata di giovedì. I cani operano davanti a tutti noi, noi seguiamo vista udito l'operato dei cani, quando i cani effettuano dei ritrovamenti il conduttore ci avvisa e procediamo noi a verificare l'entità, se è vero o meno la segnalazione del cane. A garantire la sicurezza degli operatori due vedette e la strumentazione già installata sui versanti, la notte scorsa le temperature sono scese sotto lo zero con tutti i pro e i contro del caso. Il lavoro non è stato più semplice perché appunto solidificandosi il ghiaccio ci ha reso più difficile recuperare questi reperti. Chiaramente il freddo ci dà maggiore sicurezza, più freddo c'è per noi, più sicurezza c'è, meno probabilità ci sono che il crepaccio sopra si muova. Intanto l'attesa dei familiari di vittime non riconosciute e dispersi è spasmodica. Il verdetto di Iris di Parma dovrebbe arrivare ore, mentre dopo il riconoscimento dei congiunti hanno un nome gli escursionisti ciechi trovati morti. Si tratta di Pavel Dana e Martin Uda. Si sono invece affidati a un avvocato i parenti dei coniugi Davide Miotti ed Erika Campagnaro di Belvedere di Tezze, ancora dispersi. In una lettera si chiedono se non vi fossero autorità pubbliche preposte a verificare lo stato di un crepaccio che per sua natura può causare distaccamenti, situato a monte di una meta turistica ad alta frequentazione. Queste le parole. Intanto tra Val di Fassa e a Gordino è il momento del lutto. Domani sera alla messa ufficiata dai Vescovi di Vicenza e Trento, presente il presidente del Veneto Luca Zaia che usa parole inequivocabili. Faccio un invito, non al turismo del macabro. Io sono andato già su più volte e devo dire che non ha nessun senso andare lì a fotografare, addirittura trovare escursionisti che cercano di bypassare le transenne. Vi dico anche che ho chiesto al sindaco di Canazzei di mettere le multe, di metterle cifre e di metterle al massimo. Non a caso interdire ora l'area della tragedia è una delle priorità di Veneto e Trentino. È inevitabile, a me sembra il minimo chiudere quella zona per un fatto di ricerche, di sicurezza, ma me lo lascio dire prima di tutto di rispetto. Non esiste che si vada a camminare sopra a un teatro di una tragedia come questa, soprattutto in questa fase.